Anche quest'anno abbiamo fatto un ciclo di incontri che riguarda soprattutto il titolo l'ha scelto il direttore del Centro Studi del Federalismo, il futuro dell'Unione Europea nel nuovo disordine mondiale ed è proprio significativo di quello che sta succedendo dal bipolarismo al multipolarismo, dal multipolarismo a non si sa. E tra l'altro lo abbiamo inquadrato proprio soprattutto dal punto di vista dell'Unione Europea, dell'Unione Europea e quindi degli stati, dell'impatto di quello che fa l'Unione Europea sugli stati nazionali. Oggi abbiamo un argomento molto attuale che è il PNRR, il Piano Nazionale di Resistenza, di ricostruzione e resilienza e la nuova dimensione della solidarietà nell'Unione Europea. Inauguriamo così questo ciclo e abbiamo il piacere di vedere tra noi il direttore del Centro Studi che è Flavio Brugnoli, poi Andrea Morrone, costituzionalista di Bologna, diciamo tra i giovani costituzionalisti e the best one, e poi Filippo Scuto, costituzionalista di Milano e Giovanni Cavaggion ugualmente, costituzione giovane, costituzionalista di Milano. Tutti dovremo affrontare da più angolazioni questo tema, un tema che è estremamente importante ma prima di cominciare ad entrare un po' in merito vorrei che il direttore Flavio Brugnoli ci introducesse questa nostra riunione. Prego Flavio. Buonasera a tutti e a tutte, sono Flavio Brugnoli, sono il direttore del Centro Studi sul Federalismo e appunto piacere e l'onore, come si dice, di inaugurare questo che è l'ottavo ciclo di seminari con il Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici, Storico-Politici dell'Università di Milano e il Centro Studi sul Federalismo. Faccio un piccolo spot sul centro che è nato nel 2000 e ha come fondatori e cofondatori la Compagnia di San Paolo, le Università di Torino, di Pavia, di Milano quindi ho anche a casa sua qui in questo momento il centro e il Politecnico di Torino. Come prima cosa ovviamente vorrei fare dei ringraziamenti anzitutto alla professoressa Paola Bilancia che è fin dall'inizio il motore di questi seminari e che fa anche parte del Consiglio Direttivo del Centro Studi sul Federalismo. Poi il professor Scuto che ha curato questo ciclo e il dottor Cavaggion che è sempre, diciamo, il regista organizzativo. Ci tengo anche, sono anche collegate a ringraziare le persone del Centro Studi sul Federalismo Elisabetta Tarasco e Valentina Bassano che rendono possibile, diciamo, anche il collegamento con chi ci segue online. E poi ringrazio anche di essere con noi il professor Andrea Morrone che ci fa l'onore appunto di aprire questo ciclo. Tra l'altro il professor Morrone dell'Università di Bologna che è anche la mia alma mater, quindi mi fa particolarmente piacere. Ovviamente chi fa i saluti non deve fare una relazione, però vorrei dire un paio di cose sia sul tema generale di cui parlava la professoressa Bilancia sia sul tema di oggi. Non ultimo perché io sono, credo, l'unico economista fra quattro giuristi, quindi magari cerco di mettere anche un taglio leggermente diverso. Il tema appunto è il futuro dell'Unione Europea nel nuovo disordine mondiale. Non c'è bisogno di dire che siamo più offerte di disordine nel mondo, quindi insomma il titolo era abbastanza facile purtroppo. Però vorrei ricordare che la Commissione von der Leyen, quando si insediò, si diede tre pilastri per l'appropriazione, la transizione ecologica, la transizione digitale ed essere una Commissione geopolitica. Credo che in quell'idea della Commissione geopolitica c'era questa idea che in fondo quello che è in discussione oggi è il posto dell'Unione Europea nel mondo. Direi che in questi dieci seminari ci siamo sforzati di cercare un possibile filo conduttore con le riflessioni su questo ruolo e posto dell'Unione Europea nel mondo. Per quanto riguarda invece il tema di oggi, il PNRR e la nuova dimensione della solidarietà nell'Unione Europea, non c'è bisogno di sottolineare il ruolo trasformativo che Next Generation EU e sperabilmente il PNRR possono avere. Però una cosa che ci terrei a sottolineare è che in realtà nella costruzione europea noi abbiamo sempre avuto questo dilemma con cui siamo stati confrontati nel rapporto come conciliare, se vogliamo, solidarietà e responsabilità. Faccio un riferimento che spesso sfugge, soprattutto nel dibattito italiano, ai criteri di Maastricht, che sono ormai associate, diciamo, un'idea di austerità, però in realtà dietro ai criteri di Maastricht c'era un'idea di solidarietà fra generazioni, un concetto che ad esempio è fortissimo in altre culture nord-europee, più debole da noi, perché in fondo dietro ai criteri c'era questa idea che non bisogna che la generazione attuale scarichino sulle generazioni future le proprie decisioni attraverso il debito, il deficit del debito, e non devono trasmettere una moneta, diciamo, svalutata attraverso, a causa dell'inflazione, alle generazioni future. E Next Generation EU ovviamente è importante perché si è passati da una visione, se vogliamo, restrittiva a una visione espansiva. Però è interessante vedere che oggi in fondo siamo confrontati con lo stesso problema, cioè che ne sarà del carico di debito che per buoni motivi stiamo facendo e stiamo sperimentando un prepotente, in parte in atteso ritorno dell'inflazione. Quindi con queste, diciamo, sottolineature però tornerei un po' al primo dei pilastri dell'azione della Commissione von der Leyen. Io credo che in fondo la transizione ecologica sia, come dire, la forma suprema di solidarietà fra generazioni, se posso dire in modo un po' retorico, che abbiamo davanti. Credo che questo non ci debba mai sfuggire anche nei dibattiti, ad esempio, sulla questione della crisi energetica. Credo che, come dire, questi pilastri siano da tenere, come dire, sempre presenti. Quindi, diciamo, questa è la visione dell'economista. Per i giuristi, per fortuna, ci sono loro. Quindi grazie ancora a tutti e ripasso la parola alla professoressa Bilanci. Grazie, direttore. Hai inquadrato perfettamente il problema e quindi volevo entrare un attimino nel Medias Ress. Noi parliamo in questo momento, tutto il PNR è nato dall'attuazione di un principio dei trattati europei, che è il principio della solidarietà. Allora, voi sapete che ogni ordinamento nasce da un accordo tra gli attori politici, giuridici, economici, istituzionali, nel creare questo ordinamento. E ogni ordinamento nasce su dei principi, su dei valori. Che cosa quella determinata comunità, che può essere un club, può essere uno Stato, può essere con associazioni alpini, quali sono i valori che si vogliono realizzare con questo ordinamento, che sia il ordinamento giuridico pubblico o l'ordinamento giuridico privato. Ecco, l'ordinamento dell'Unione Europea, che è stata un'evoluzione rispetto a trattati comunitari, nasce da un nucleo di valori che si sono trasformati in principi, principi ordinamentali, che devono essere attuati, rimangono lì, non si ignorano talvolta per una generazione, ma poi ci si ricorda che questo è un principio fondante, che regge, che regge, che su cui si è ispirata questo ordinamento. E diciamo che la solidarietà è uno dei principi che è particolarmente enunciato e sottolineato nel Trattato di Lisbona, perché è previsto, è un valore diciamo interstatale, è previsto dall'articolo 2 all'articolo 3 del Trattato Unico sull'Unione Europea, è previsto l'articolo 24 sulla solidarietà esterna, cioè difesa, politica estera degli Stati, legata al principio di solidarietà, è previsto nella lotta al terrorismo, a qualsiasi attentato terroristico nell'Unione scatena interventi di solidarietà da parte degli altri Stati. Quindi di fatto questo principio di solidarietà è sempre stato sottovalutato o anzi interpretato cinicamente come interdipendenza tra gli Stati e quindi dei fenomeni che potessero accadere negli Stati, soprattutto quello che potessero toccare gli Stati fondatori, tra cui siamo noi. Ed ecco che la solidarietà improvvisamente non viene a galla nel momento della crisi finanziaria scatenata nel 2008, poi trasferitesi qui in Europa nel 2009, 10, 11, di cui abbiamo ancora delle code, ma si prende corpo con la pandemia. La pandemia è un fenomeno in cui nessuno Stato era preparato, si ricordano la pandemia della Spagnola negli anni 900 dei nostri nonni, ma insomma noi non avevamo avuto occasione di avere pandemia, almeno che io ricordi. Forse la poliomelite, ma era qualcosa di molto diverso rispetto a questo, perché questa era una pandemia dilagante. E quindi certamente nessuno Stato poteva affrontare da solo tutto quello che era necessario per risolvere la pandemia, dall'acquisto delle mascherine, all'acquisto dei vaccini, alle vaccinazioni, al svolgimento delle vaccinazioni, ai fenomeni di restrizione che poi sono, diciamo, dilagati intercambiandosi tra Stato e Stato. È da lì che sostanzialmente nasce, prende corpo questa solidarietà, che non è solo interdipendenza, e solidarietà come evoluzione del principio etico-religioso, che nasce nella religione, ma come evoluzione fattuale. E questo è molto importante, perché di fatto non è solamente, la solidarietà è vero, esiste a piene mani nel Trattato di Lisbona, ed è anche declinato molto bene, ma il problema è attuarlo, realizzarlo, cioè portarlo alla volontà degli Stati che si riuniscono nel Consiglio d'Europa, nel Consiglio europeo, e il problema è attivare tutto ciò che è necessario per estrinsecare questo principio di solidarietà. E non è finito, perché il principio di solidarietà si andrà forse affermando via più nel campo energetico, quella crisi energetica, acquisti comuni di energia, eccetera, tentativo di press cap a livello europeo. Perché? Perché è un cappello largo, sotto cui possono stare tutti gli Stati, e solo così si possono fronteggiare dei fenomeni che vanno al di là delle capacità degli Stati. Che, come ha detto l'altro giorno, il Presidente Mattarella, avete letto sui giornali, sui titoli della televisione, ragioniamo come se fossimo dei grandi Stati, in realtà siamo tutti dei piccoli Stati, anche se abbiamo delle capacità militari, abbiamo delle capacità economiche, eccetera, così, però questi fenomeni travalicano gli Stati, i singoli Stati, vanno gestiti in maniera... Non vorrei prendere però troppo spazio, anche perché ho dei colleghi che interverranno su singole aree, su singoli temi, e che ho curiosità di sentire anche io. Quindi io darei, ringraziandolo per essere venuto, la parola ad Andrea Marrona, che è appunto diritto costituzionale dell'Università di Bologna, molto, diciamo, molto famoso in Italia, come costituzionalista, forse anche come sportivo, ma questo non mi interessa a loro. Quindi ti do la parola Andrea, e ti ringrazio ancora per essere venuto. Questo? Sennò prendo velo portati, forse meglio. Prendo e portati. Ci sono, grazie intanto, buonasera a tutti, grazie di questo graditissimo invito, spero di non tradire le attese, vista questa grandissima presentazione di Paola Bilancia. Lo fa perché siamo amici, diciamo così, quindi non perché effettivamente ci siano dei valori sottostanti. È per me un onore, è un piacere essere qui con voi oggi, soprattutto perché mi avete fatto, diciamo così, questo regalo, di inaugurare questo corso che è all'ottava edizione, mi pare di aver capito. Quindi una cosa che ha una storia alle spalle, è un successo in dubbio. Ringrazio ovviamente Flavio Brugnoli, il direttore del Centro Studi sul Federalismo, per l'invito, ovviamente, perché insieme all'Università degli Studi di Milano magna parza di questa iniziativa è appunto quella del Centro Studi sul Federalismo. Allora, io non so quanto tempo mi avete messo a disposizione, diciamo così, proverò a usare 30 minuti, 20-30 minuti. Mi scuso con voi se sarò in alcuni casi, forse in generale, troppo riduttivo nel rappresentare le cose che voglio dirvi. Però se ci sono delle cose che voi ritenete necessario che io approfondisca, lo faccio senz'altro volentieri. Ora, il filo conduttore di questa nostra riflessione è, come diceva Paola Bilancia, il tema della solidarietà in Europa. Questa condizione, appunto, che Paola Bilancia giustamente ha valorizzato in termini di valore fondante e quindi di principio giuridico, per la verità è un'assoluta novità nel contesto del processo di integrazione europea. Vorrei ricordare, soprattutto a voi, che siete degli attenti osservatori della realtà, come di solidarietà in Europa in realtà si è sentito parlare, soprattutto in maniera insistente, a partire dall'evento tragico della pandemia. Ma prima, se si frequentavano gli ambienti europei e se appunto si discuteva di Europa con le cancellerie dei 27 paesi europei, la solidarietà veniva considerata certamente un valore iscritto nei trattati, in questo o quel luogo, l'articolo 2, nel preambolo, ma certamente di solidarietà, la solidarietà non è un valore costitutivo né delle comunità originarie, né tantomeno del processo di integrazione economico-finanziaria, prevalentemente economico-finanziaria, che si è realizzato a partire da Maastricht nel 1993 e quindi in conseguenza con l'unificazione monetaria, l'introduzione dell'euro e la gestione delle crisi successive. Richiamo la vostra attenzione su un evento, la crisi economico-finanziaria mondiale, che ovviamente ha toccato anche l'Europa e gli Stati membri dell'Unione Europea, il biennio tragico 2007-2009, che è lo scoppio, l'apice di questo evento critico, globale e quindi necessariamente europeo, la crisi economico-finanziaria si reggeva, a meglio, l'interpretazione delle soluzioni alla crisi economico-finanziaria in Europa, si reggeva su quello che invece era considerato il vero principio regolatore dei rapporti, che con un'espressione inglese si traduce nel principio no bail out, no bail out, che è sancito nell'articolo 125 del trattato sul funzionamento dell'Europa, che dice così, l'Unione non risponde, non risponde, né si fa carico degli impegni assunti dalle amministrazioni statali, dagli enti regionali e locali, altri enti pubblici, da organismi di diritto pubblico, o da imprese di uno Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto economico specifico. Gli Stati membri, aggiunge, non sono responsabili né subentrano agli impegni dell'amministrazione statale, di enti locali, eccetera, di un altro Stato membro. Quindi, né solidarietà tra Unione e Stati membri, né solidarietà tra Stati membri. No bail out, nessuno può intervenire a garantire, a aiutare gli Stati e le loro partizioni interne per una cattiva gestione di bilancio. Cioè, se gli Stati e le loro amministrazioni non sono in grado di badare a se stessi, si direbbe, non si può sperare nel soccorso delle istituzioni europee né degli altri Stati. Si voleva evitare il cosiddetto azzardo morale, cioè si voleva evitare che gli Stati approfittando della loro condizione di virgolette Stato membro dell'Unione Europea potessero contare appunto sull'aiuto e il sostegno degli altri per fronteggiare alla finanza allegra che appunto questi Paesi intendevano e hanno inteso talora ripercorrere. Non ci dimentichiamo che la crisi della Grecia di cui si è tanto parlato e che conoscete benissimo che ha rappresentato se volete il non plus ultra di un intervento estremamente pesante da parte delle istituzioni europee si reggeva su un dato di fatto indiscutibile non la finanza allegra ma diciamo così la pessima gestione delle risorse pubbliche del bilancio pubblico da parte di più di un governo di quel Paese che avevano portato la Grecia sull'orlo della bancarotta anzi direi che era uno Stato fallito e ci piaccia o non ci piaccia la storia poi è sempre magistra vite ci ha insegnato la storia che per fortuna che c'era l'Unione Europea non so se voi avete fatto viaggi recentemente in Grecia ad Atene ma questo Paese è stato completamente trasformato grazie a quei pochi miliardi di euro ma importanti per la Grecia che hanno consentito sia pure a costo di gravissimi sacrifici per carità di poter risalire la China è un Paese che presenta una rete autostradale molto più avanzata della nostra ecco noi italiani insomma io mi sono stupito sono stato qualche mese fa sono rimasto impressionato per la modernità che presenta la rete viaria di quel Paese bene ma appunto torniamo al dato di partenza no bail out no responsabilità condivisa non solidarietà vi ricordo sempre a titolo informativo che quando si è discusso negli anni immediatamente successivi alla crisi economico-finanziaria che è l'antefatto rilevante della pandemia e del post pandemia quando l'Unione Europea ha cercato appunto di correre ai ripari si è trovata sostanzialmente sguarnita perché le istituzioni europee hanno guardato al proprio interno hanno guardato innanzitutto ai trattati hanno guardato agli strumenti giuridici che avevano a disposizione si sono resi conto che non avevano mezzi appunto per poter intervenire a fronteggiare il fallimento degli stati i debiti sovrani che finivano appunto per sovraesporre alla speculazione finanziaria l'Italia è stato uno dei paesi guida in questa classifica di maglie nere e quindi diciamo così l'Europa si è trovata sguarnita ha dovuto inventare dal nulla nell'emergenza economico-finanziaria degli strumenti dando corso a quella indicazione profetica lungimirante che Jean Monnet al momento della costituzione delle comunità europee negli anni 50 fotografava quello che sarebbe stato il virgolette destino dell'Europa l'Europa si farà attraverso le crisi attraverso le emergenze e diciamo così è stata una profezia veramente molto molto realistica perché dico questo perché se voi riflettete su tutti gli strumenti che l'Unione Europea insieme agli Stati perché quando parlo di Unione Europea non vorrei rappresentarvi una entità distinta e distante dagli Stati come la cronaca giornalistica probabilmente non siete voi i responsabili ma diciamo così la vulgata che circola è che l'Unione Europea è qualcosa di altro rispetto a noi ma in realtà le nostre vite sono regolate per l'80% da norme europee che gli Stati membri svelo il segreto di Pulcilenla hanno contribuito a elaborare nelle istituzioni europee e poi a recepire nel proprio ordinamento interno dicevo le soluzioni trovate dall'Unione Europea negli anni della crisi economico-finanziaria sono state letteralmente inventate pensate pensate al meccanismo di stabilità il meccanismo europeo di stabilità il famigerato mess come è stato qualificato esagerando appunto l'aggettivazione i fondi salvastati sono stati appunto costruite nelle pieghe diremmo noi giuristi del diritto in realtà sono stati letteralmente creati ex novo non c'era nessun appiglio formale che consentisse di garantirli tant'è che le istituzioni europee hanno sentito il bisogno di modificare i trattati inserendo mi pare l'articolo 136 un'addenda a una disposizione del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea che appunto prevedeva la possibilità in casi di crisi economico-finanziarie per le istituzioni europee di istituire fondi salvastati appunto ex post guardate no come spesso si fa nel mondo giuridico ex facto avrebbero detto i latini ori tur reius dal fatto empirico si crea il diritto e qui appunto il diritto è stato creato perché si è fatta la norma norma impugnata contestata davanti alla Corte di Giustizia perché violava il principio fondante potremmo dire della Costituzione materiale e anche formale europea no bail out come si può consentire fondi salvastati europei che appunto vanno a gravare sulle risorse di tutti gli stati laddove i trattati non lo prevedono è legittima una riforma dei trattati in questo senso dal punto di vista teorico potremmo dire è legittima una revisione costituzionale uso una categoria costituzionalistica ma che può essere applicata anche al diritto europeo è legittima una revisione costituzionale che inserisce un principio nuovo rispetto al principio esistente c'è chiaramente una collisione no bail out solidarietà economico-finanziaria ebbene la Corte di Giustizia nel caso Pringle è un caso famosissimo che ha segnato la storia disse proprio alcune cose che il nostro direttore ha messo in evidenza e cioè è che ebbene signore e signori quando ci sono delle crisi che mettono a repentaglio la tenuta del processo di unificazione europea non si può perché l'Europa non può tradire la solidarietà rinunciare all'adozione di questi strumenti nel commentare questa decisione credo che tra pochi essere stato scusate se mi autocito nel commentare questa vicenda io dissi che Pringle e gli strumenti messi in campo dall'Europa erano i prodromi i primi vagiti dell'emersione concreta del principio di solidarietà a livello europeo che non era un principio che potevamo ritenere estraneo come giustamente diceva Paola Bilancia fin dall'inizio del resto perché si fanno le comunità europee qual è il destino del processo di integrazione europea se non quello di mettere in comune poteri per realizzare fini comuni la pace la giustizia tra le nazioni fini altissimi che nel contesto più concreto dell'Europa unita significano evitare che si ripetano le storie del novecento che non vogliamo più vedere anche se oggi abbiamo scoperto che la guerra è accaduta di nuovo anche se riguarda alcuni direbbero altri non noi ma in realtà la guerra è dentro casa nostra e quindi dobbiamo capite che non basta scrivere dei testi per poter scongiurare un evento drammatico ma questo era il fine fin dall'inizio perché l'Europa unita perché appunto si vuole solidarizzare un destino comune mi verrebbe da dire per alzare il tono o più semplicemente per affrontare insieme problemi concreti di esistenza che gli stati da soli non riescono più a realizzare questo è il punto la hubris di Brexit in fondo sta proprio in questo nell'idea che nel terzo millennio uno stato sovrano rivendica la sua sovranità pensando che da solo possa bastare a se stesso in un contesto fortemente interconnesso qual è il mondo globalizzato qual è la società digitale qual è l'economia appunto mondializzata di stampo neoliberista ovviamente che aggredisce le piccole patrie siamo tutti piccole patrie in un contesto di capitalismo finanziario fortemente aggressivo che priva lo stato moderno lo stato del novecento degli strumenti adeguati per svolgere la sua missione che è quella di garantire agli individui un'esistenza libera e dignitosa ecco l'Europa rappresenta una chance una speranza che questo si possa fare nella crisi degli stati sovrani del novecento e appunto in un mondo complesso multipolare in cui l'Unione Europea è una piccola realtà ma che può giocare una partita importante se è sempre più unita e se è sempre più solidaristica ora è inutile che parli della pandemia la pandemia ha rappresentato l'apice di tutta questa storia c'era voluta ai noi la tragedia in mane della pandemia che qualcuno ancora oggi fa finta di non conoscere per scoprire della estrema necessità di un'Europa sempre più unita sempre più integrata e sempre più solidale perché e qui vengo al punto la parts più construence o comunque più attenta al tema specifico di questo seminario Next Generation EU questo straordinario progetto che è strettamente correlato ai piani nazionali di ripresa e resilienza Next Generation EU e PNRR sono due facce della stessa realtà anzi sono la stessa realtà rappresentano da tanti punti di vista un'eccezione nel senso di un passaggio paradigmatico è un nuovo paradigma è un nuovo paradigma per intendere il processo di integrazione europeo insomma il fatto che l'Unione europea attraverso i suoi stati con un meccanismo complesso che si è svolto nel tempo abbia pensato che per fronteggiare questa crisi del tutto straordinaria in assoluto straordinaria non era mai successo nella storia dell'umanità una cosa così drammatica e così rilevante da tutti i punti di vista fosse necessario spingere ancora più in là il motore della solidarietà e fare quello che fino al giorno prima anche in piena pandemia ricordate le discussioni sembrava impossibile a farsi creare un debito comune europeo e emettere titoli del debito europei e questo è Next Generation EU ricordate le discussioni prodi i neoliberisti si può tremonti tutti questi profeti della dell'integrazione europea nel bene e nel male che cercavano di trovare una soluzione a un dilemma che sembrava irrisolubile e che dalle istituzioni era stato risolto nel senso non se ne parla né per nulla perché gli stati del nord contro i PIGS gli spreconi del sud che avevano dato prova di cattiva gestione dei propri bilanci forse venivamo anche accusati di essere la causa noi della crisi economico finanziaria probabilmente l'abbiamo resa più grave nel contesto dell'Europa i paesi del nord ovviamente non pensavano minimamente di mettere in comune i loro bilanci per salvare diciamo così quelli del sud dimenticando che però vengono poi da noi a fare le vacanze estive senza diciamo così degli stabilimenti balneari all'altezza delle loro aspettative diventa difficile garantire ai nostri amici danesi sì certo appunto parte poi anche le altre questioni legate alle finanze 750 miliardi di euro di cui più della metà sono appunto tratti mediante ricorso al mercato finanziario emettendo debiti di titoli del debito pubblico europeo e che consentiranno all'Italia di disporre dal 21 al 26 di 210 miliardi è il paese che ha avuto di più e speriamo che sia il paese che sape usarli meglio nel tempo che abbiamo a disposizione per farlo quindi un vero salto in avanti la questione è la domanda che ci si pone quindi qui la prima domanda che io pongo la vostra attenzione è la seguente come si sa Next Generation EU è uno strumento solidaristico che vale una tantum cioè legato alla pandemia e agli effetti della pandemia nel 2026 27 questo strumento finisce e quindi è uno strumento emergenziale oppure è uno strumento che potrà essere riprodotto e utilizzato in futuro come sapete poiché a crisi si aggiunge crisi ai noi la crisi bellica e quindi la conseguente crisi energetica ha fatto emergere un movimento d'opinione che sta prendendo piede in Europa anche il governo italiano pare molto impegnato almeno a parole su questo fronte di creare un Next Generation EU per fronteggiare la crisi energetica e alcuni pensano che forse occorra uno strumento analogo per fronteggiare la crisi migratoria e chissà cioè voglio dire è probabile che l'evento critico pandemico e gli eventi critici che si stanno susseguendo e che sono la nostra la misura della nostra esistenza contemporanea viviamo in tempi di crisi permanenti giustifichino una generalizzazione di questo modello e del resto se ci pensate bene mi verrebbe da dire bisogna anche muoversi con un certo realismo di fronte alle cose come si può pensare che una volta che si è introdotto uno strumento così importante come la mutualizzazione del debito si possa fare un passo indietro rinunciare alle potenzialità e soprattutto ai risultati di uno strumento così importante e soprattutto mi verrebbe da dire come europeista convinto sempre più convinto di fronte alle miserie dei sovranismi e appunto alle cose critiche che prima rappresentavo come non sperare che questa sia la strada veramente da battere con convinzione nella prospettiva appunto di un processo federativo europeo ancora più accentuato di quello che abbiamo conosciuto finora ora vorrei detto questo sollecitare la vostra attenzione focalizzare la vostra attenzione su alcune questioni non so quanto ho parlato e se ho una decina di minuti un quarto d'ora per poter parlare e appunto ipotizzare alcune alcune linee di approfondimento molte delle quali sono effettivamente in questo programma e meritano di essere approfondite però voglio dire la mia primo punto Next Generation EU cioè il punto generale è questo questo grande progetto questo grande programma per la coesione sociale la ripresa economica la crescita e forse una maggiore eguaglianza mettiamola così in termini di protezione sociale negli stati membri dell'Unione Europea e qui nell'Europa il grande assente fino a ieri era assente la solidarietà oggi la stiamo mettendo in campo forse una presenza che vorremmo realizzare è quella di poter fare dell'Europa anche uno stato sociale cioè uno stato di protezione delle diseguaglianze sociali e non lasciarle soltanto alle labili e volubili volontà degli stati degli stati membri ora in questo scenario ci sono alcune piste che meritano di essere attenzionate si direbbe con brutto termine ma che diciamo ormai è invalso nella lingua italiana la prima riguarda appunto le ricadute del di Next Generation U e del PNRR sul piano di quelle che vengono dette dai costituzionalisti le fonti normative perché sottopongo questa è una questione un po' tecnica però è interessante per le cose che dirò almeno per me lo è come sapete il PNRR non si sa bene che natura abbia se è un atto politico un atto di programmazione o se è appunto il contenuto di una legge cioè di un atto normativo in senso proprio estretto lo stesso potremmo dire di Next Generation EU se si guarda però al processo analiticamente al processo è una cosa complessa e non è una cosa banale è difficile anche per gli specialisti riuscire a orientarsi in questo groviglio di cose se si guarda però un po' attentamente all'interno si capisce che tutto questo si muove usando tipicamente gli strumenti tipicamente propri del diritto europeo dell'Unione Europea che combina hard law e soft law come dicono gli inglesi cioè strumenti classici di produzione normativa hard fonti normative in senso proprio stretto e moltissimi strumenti di soft law cioè strumenti che non hanno dal punto di vista giuridico normativo obbligatorietà in senso proprio stretto ma che si estrinsegano in comunicazioni decisioni raccomandazioni pareri di commissione consiglio banca centrale europea che insieme hanno rappresentato la parte portante di Next Generation EU perché se guardiamo a questo processo gran parte della produzione di documenti che hanno portato poi al testo finale sono proprio espressioni di soft law più che di hard law e attenzione per capire la parte normativa mi verrebbe da dire di Next Generation EU occorre tenere presente tutta questa parte che i giuristi continentali non terrebbero presente perché non la considererebbero vincolante e obbligatoria ma che in realtà nel campo europeo hanno molta importanza secondo aspetto Next Generation EU incide sulla forma dell'Europa ecco con questa espressione intendo proprio gli assetti di potere che fino a noi fino ad oggi noi abbiamo considerato rilevanti e qualificanti nel contesto europeo dico subito qual è la mia tesi Next Generation EU accelera il processo di federalizzazione europea nel senso cioè dello Stato federale è una tesi ardita me la rendo perfettamente conto e soprattutto Cozza con l'opinione corrente che vuole invece mantenere l'Europa molto più simile ad una confederazione di stati cioè come dice come dicono i tedeschi un un'unione un club non all'inglese non si può più dire perché gli inglesi sono andati via ma diciamo così una sorta di club di stati dove gli stati sono i signori dei trattati cioè alla fine della fiera chi decide sono gli stati i governi degli stati e quindi diciamo così un'unione a trazione sovranista statalista più che un'unione che guida le posizioni degli stati come dovrebbe essere la prospettiva federale invece no perché la mutualizzazione del debito è un classico strumento di federalizzazione è un classico strumento come dicevamo prima di solidarietà economico finanziaria europea questo è il presupposto iscritto negli atti normativi basta guardare il regolamento 2094 del 2020 sulla dotazione finanziaria appunto quello che indica le cifre e sul collegamento aspetto molto importante che c'è tra Next Generation EU a proposito di studiosi di economia e il bilancio europeo fino a ieri il bilancio europeo che si autofinanzia con entrate proprie derivanti da trasferimenti degli stati in proporzione alla consistenza politico-economica di ciascuno stato non ha mai avuto fino ad oggi il bilancio europeo la funzione che hanno i bilanci normalmente nei grandi enti politici quello cioè di operare la redistribuzione delle risorse tra le diverse componenti della società che si organizza il bilancio europeo si aggira intorno all'1% delle risorse complessive quindi non ha nessuna capacità performativa nel contesto economico finanziario europeo ma oggi c'è uno stretto collegamento tra Next Generation e il bilancio i PNRR vanno fatti nel semestre europeo cioè c'è una stretta colleganza tra questo strumento emergenziale e l'ordinario modo di costruire i bilanci statali europeo secondo le norme che sono state approvate a partire dalla crisi economico finanziaria cioè norme che prevedono una fortissima collaborazione tra la commissione e gli stati e gli stati membri ma qual è il punto che mi interessa è che in prospettiva questo bilancio sta assumendo proprio le funzioni proprie di un bilancio federale come negli stati come negli stati federali perché questo bilancio prevede appunto un meccanismo di tutela della sua stabilità che è dato dal regolamento sullo stato di diritto che era stato scritto prima della pandemia addirittura ma che si è rivelato utile o comunque stato piegato per poter essere uno strumento funzionale alla garanzia che Next Generation EU che questi piani nazionali possano arrivare al buon risultato voi avete tutti ben presente la questione della Polonia dell'Ungheria della Romania e di altri paesi che negano il primato del diritto europeo negano che l'Europa possa imporre agli stati membri il principio dello stato di diritto cioè rispettare i diritti fondamentali avere la separazione dei poteri al proprio interno avere dei giudici indipendenti e non sotto controllo del potere politico questo è il punto di frizione maggiore in Polonia e Ungheria e quindi garantire i diritti fondamentali ebbene la Polonia la Corte Costituzionale che è stata tutta rimaneggiata dal potere politico in funzione per averla addomesticata e amica in qualche modo la Corte Polacca ha detto la Costituzione Polacca cioè il diritto di chi governa oggi prevale sul diritto europeo cosa che ha messo in moto una crisi che è tutta rientrata per effetto della guerra Ucraino-Russia perché la Polonia riceve i rifugiati ucraini e quindi si è sospeso il giudizio sulla Polonia ma si è andati avanti nei confronti dell'Ungheria Polonia e Ungheria avevano contestato questo regolamento davanti alla Corte di Giustizia e la Corte di Giustizia dice una cosa fondamentale guardate che se vogliamo rimanere quello che siamo cioè se vogliamo garantire i valori comuni se vogliamo che l'Europa si costruisca a partire da questi valori fondamentali e in funzione di questo l'Europa eroga risorse per mantenere la solidarietà e il processo di integrazione sulla giusta strada di una unificazione politica europea ebbene non si possono ricevere fondi senza dare in cambio le garanzie perché vengano rispettati i diritti fondamentali e quindi si è creato un meccanismo di garanzia attenzione della stabilità economico-finanziaria perché sulla carta questo viene detto sia nel regolamento sia nella Corte di Giustizia ma in realtà dietro le parole contano le sostanze e la sostanza che sta dietro queste affermazioni è che il bilancio è un bilancio federale nel senso che è un bilancio che interessa tutto il paese inteso come Europa degli stati membri e che quindi nessuno può chiamarsi fuori perché se salta uno di questi elementi strutturali un paese si sottrae a questo regime solidaristico di gestione di risorse comuni per finalità comuni salta l'impianto complessivo come normalmente accade nei bilanci nazionali perché le regioni devono seguire le linee programmatiche del bilancio economico dello Stato perché c'è un conto generale che va tenuto oggi i conti vanno tenuti a livello locale a livello statale e a livello europeo ma c'è di più perché questo meccanismo attenzione è costruito intorno a un istituto che si chiama la condizionalità la condizionalità che cos'è ti do le risorse a condizione che tu raggiungi certi obiettivi ora in questo caso come sappiamo Next Generation valorizza alcuni obiettivi coesione economico sociale crescita economica maggiore occupazione transizione ecologica transizione digitale e quant'altro tante belle cose interessanti lasciamo da parte la questione rilevante di come siano state prescelte è oggetto di un altro seminario non me ne voglio occupare ma quello che conta attenzione è che questi obiettivi possono essere realizzati cioè l'Europa li pone virgolette li impone agli stati dicendo guardate questi sono degli obiettivi voi siete liberi di decidere che cosa farne sappiate che se perseguite questi obiettivi otterrete dei finanziamenti e i finanziamenti verranno mantenuti fin tanto che questi obiettivi saranno perseguiti si sono inventati qualcosa in Europa no hanno semplicemente recepito un classico strumento in uso negli stati federali negli stati uniti si chiamano grants in aid e in particolare conditional grants cioè finanziamenti condizionati che hanno rappresentato nella storia del costituzionalismo statunitense del federalismo statunitense lo strumento attraverso il quale la federazione ha allargato le sue competenze in spazi riservati agli stati membri proprio attraverso questo meccanismo di condizionalità io non ho competenza ma come faccio ad allargarmi vi do dei finanziamenti cioè vi dico ci sono degli obiettivi che certamente non rientrano nelle mie competenze ma che sono di vostra competenza ma che io sollecito io federazione sollecito che voi raggiungiate e per questo scopo vi do delle risorse sappiate che se lo fate avete le risorse altrimenti siete liberi di non farlo bene tutti gli stati americani si sono adeguati a questo strumento perché è ovvio che se vuoi sviluppare la realtà devi farlo è un vincolo è un'occupazione è come alcuni hanno detto si tratta della classica e ennesima invasione di istituzioni lontane da noi che vogliono diciamo così imporsi dei programmi degli obiettivi è lasciato alla nostra libera scelta e appunto non c'è una compressione della libertà secondo me vengo all'ultimo punto il PNRR dal punto di vista interno della forma di governo vedo che c'è un seminario che si occupa di questo come cambia la vita interna dei singoli paesi ora guardiamolo questo tema dopo il PNRR dopo Next Generation e io e il PNRR guardiamolo dal nostro punto di vista come sapete qui ci sono diverse questioni una l'ho accennata che natura ha questo piano questo piano programmatico questo programma di azione di cinque anni seconda domanda che era molto concreta e lo è tuttora no? ma come si può pensare che un programma varato da un governo Conte II modificato da Draghi governo Draghi come sapete la crisi del Conte II si consuma sulla scelta di come costruire lo strumento interno di ricevimento di Next Generation EU e soprattutto di quale governance come si dice avrebbe dovuto gestirlo domanda ulteriore come potrai dopo lo scioglimento anticipato delle Camere il nuovo governo il governo Meloni che ormai si è concretizzato tener fede ad un piano che la vedeva integralmente all'opposizione il partito in particolare della Presidente ops scusate del Presidente del Consiglio dei Ministri signor signor Presidente battuta che faccio sempre con i miei studenti dico qui la prima volta in Italia che abbiamo una donna che diventa capo del governo si fa chiamare signor Presidente del Consiglio dei Ministri è una cosa effettivamente difficile da comprendere io non ci arrivo ma c'è una sottigliezza che appunto il Presidente del Consiglio dei Ministri potrà spiegarci quando vorrà dilungarsi su questo punto che non è rilevante ovviamente ma il punto è la domanda che facevo prima la ridico come può un accordo programmatico politico come dicono i più impegnare diversi governi scelti direttamente dagli elettori e infatti il tema della modificabilità o meno del PNRR in fondo sta qui noi unti dalle elezioni da una maggioranza nuova rispetto a quella che aveva sostenuto che poi non si sa quale fosse il Governo Draghi riteniamo che si debba cambiare e che si possa cambiare il PNRR ora la possibilità di modificare il PNRR sta nel regolamento che lo prevede però ad una condizione che cambino i dati oggettivi sulla base dei quali si era prestabilito l'accordo tra il singolo Stato e la Commissione e il Consiglio ora bisognerebbe dimostrare saperlo fare ovviamente che sono cambiati i dati oggettivi per poter in qualche modo dire a Bruxelles guardate noi siamo legittimati non solo dal voto popolare ma anche per tabulas cioè per dati concreti a rivedere integralmente questo strumento non lo si farà ovviamente 210 miliardi sono una cosa importante io ricordo ai giornalisti in particolare voi lo ricorderete meglio di me che quando Conte Presidente del Consiglio portò a casa i 209 miliardi Matteo Salvini disse ah è la classica occupazione dell'Europa che ci dà i soldi per toglierci sovranità mentre Giorgia Meloni dall'opposizione ancora disse beh è importante sono pochi si potrebbe fare di più aveva già capito tutto il futuro Presidente del Consiglio dei Ministri prenderanno i soldi li terranno e andranno avanti ma il problema resta il problema resta noi abbiamo un atto attenzione negoziato da altri governi con le istituzioni europee che impegnerà più governi perché non è mica detto che questo governo regga se vale la regola italiana che ogni governo dura un anno e due mesi fra un annetto probabilmente avremo un nuovo governo non glielo auguriamo ovviamente al signor Presidente del Consiglio dei Ministri ma diciamo così la storia insegna e l'Italia diciamo così ha una storia prepotente da questo punto di vista nella sostenibilità dei singoli esecutivi sto finendo e non c'è una donna certo beh quindi non c'è una donna che si fa chiamare signore il punto è attenzione quello che voglio sottolineare da questo punto di vista è il seguente abbiamo un atto programmatico politico che impegna più governi impegnerà più governi anche perché appunto se vogliamo realizzare se vogliamo consumare quelle risorse che potranno essere per noi una valvola di sfogo importante ripensare il paese la macchina del paese la burocrazia a tutti i livelli è bene prendere quelle risorse e poterle sfruttare al meglio e magari estendere next generation appunto alla crisi climatica alla crisi migratoria fare appunto di questo strumento uno strumento ordinario bene il punto è vedete che questa dinamica questa questa dinamica mette mette in moto tutta una serie di problemi mette in moto tutta una serie di problemi perché appunto bisognerà poi concretamente stabilire gli strumenti di attuazione di questo di questo piano ora come sapete siamo nella fase di elaborazione dei progetti eccetera eccetera però resta il fatto che il dato che emerge in sostanza è che siamo stati a sovranità limitata questo è il punto fondamentale cioè qui siamo di fronte non semplicemente ad un atto politico che prevale sulla forza politica di un governo a espressione di una nuova maggioranza non siamo di fronte a un atto politico che pretende di avere valore normativo addirittura di prevalere sulle leggi siamo di fronte ad un fatto costituente potrei dire cioè rivoluzionario dal punto di vista dei rapporti di forza che trova la sua legittimazione proprio dal diverso assetto del processo di integrazione europea e cioè tutto questo è possibile lo dico ancora più brevemente per il fatto che next generation è la scelta politico istituzionale che l'Europa ha fatto è che non può non imporsi a tutti gli stati membri proprio perché questo processo di integrazione ha avuto e sta avendo una spinta federativa impensabile impensata che si realizza innanzitutto in questo modo quindi per dirla ancora più brevemente sono secondo me sterili tutte le discussioni sulla natura giuridica di next generation EU sulla vincolatività nei confronti dei governi se è un atto di indirizzo vincolante discrezionale esistenziale tutte belle cose ma che lasciano il tempo che trovano guardiamo la sostanza è cambiato il volto dell'Europa ho finito ho finito dicendo questo la solidarietà è diventata il valore cruciale su cui l'Europa seriamente si sta impegnando dobbiamo pensare che next generation EU sia un modello generale da applicare in più ambiti ma ci sono alcuni problemi i problemi derivano dal fatto dell'incompiutezza del processo federativo non possiamo andare avanti per strappi perché per quanto europeisti siamo noi dobbiamo pensare che il processo diventi costituente in senso proprio stretto cioè bisogna che ci sia un passaggio un momento costituzionale ecco voglio usare un'espressione forte che dica che gli stati hanno veramente voluto conferire all'Unione Europea scelte fondamentali che riguardano gran parte della vita dei suoi cittadini non soltanto le questioni legate all'economia anche se queste occupano gran parte se non tutta la nostra esistenza ovviamente ci sono due problemi dicevo il primo riguarda il fatto che questa Europa e questo bilancio federativo si regge esclusivamente sul debito e un bilancio non può reggersi soltanto sul ricorso al debito pubblico deve anche valorizzare la leva fiscale e quindi sarà inevitabile che l'Europa arrivi anche a costruire dei poteri fiscali nei confronti dei cittadini degli stati non lasciando questo potere più agli stati ma andrà accentrato in qualche modo andrà accentrato come è accaduto negli Stati Uniti d'America che progressivamente la federazione ha fatto proprio il potere fiscale se no non reggi non lo costruisci un bilancio e non puoi tenere nel lungo periodo nel medio periodo un bilancio costruito prevalentemente col debito pubblico per quanto credibile possa essere l'Europa sui mercati internazionali l'altra questione riguarda lo stato sociale ecco cioè non possiamo soltanto pensare indirettamente a realizzare un welfare state europeo attraverso questi meccanismi indiretti dell'Unione Europea bisogna che se ne faccia carico chiaramente l'Europa si reggeva su un assunto secondo me sbagliato che comunque all'usura del tempo si è dimostrato sbagliato che bastasse creare un mercato comune lasciando agli stati le politiche sociali perché tutto potesse funzionare non è così bisogna centralizzare sia il governo dell'economia sia il governo della spesa sociale e quindi delle politiche redistributive non si può pensare appunto ad un mercato comune scisso da politiche economiche redistributive centralizzate europeizzate e quindi questo è il caveat ulteriore accanto a quello dell'eleva fiscale grazie dell'attenzione scusate della lunghezza relazione anche molto impegnativa vibrante direi non so se tutti saranno d'accordo su questa impostazione ma comunque stavo pensando questo ma next generation EU ma quale altro legislatore quale altro stato pensa next generation i nostri sono abituati a una legislazione di rattoppo delle situazioni attuali non che prevede per le future generazioni siamo abituati a tappare le palle con le nostre legislazioni non riusciamo a disciplinare neanche la tutela di alcuni diritti da legislatura a legislatura spassano le proposte di legge non vengono approvate per la tutela dei diritti quindi voglio dire che lungimiranza nella next generation EU qualche lungimiranza nei piani nazionali di ripresa e resistenza pensiamo che la next generation EU praticamente ha posto degli obiettivi generali li ha condizionati attraverso la necessaria impostazione di riforme fondamentali visto che noi ne abbiamo bisogno ma non siamo capaci di farle la riforma della giustizia la riforma della pubblica amministrazione è riuscita a impostare la necessità di semplificazione di impostare la tutela della concorrenza che da noi in alcuni settori è totalmente assente nonostante l'autorità per le concorrenze a impostare delle missioni missioni trasversali di digitalizzazione di politica energetica e di infrastrutture quindi impostare in una cogestione i piani nazionali di resilienza e gestirli e monitorarli per arrivarli al raggiungimento degli obiettivi pensate che complesso meccanismo ha inventato l'Unione Europea per far sì che questi soldi questi finanziamenti sia in via sovvenzionale sia in via di prestito raggiungano i fini cioè un piano Marshall ma che raggiunge gli effetti perché noi siamo abituati a non poi spendere non abbiamo la capacità di anche di spendere i finanziamenti europei vediamo i fondi di coesione che si sprecano nelle regioni vediamo che non vengono messi a terra non ce l'ha messa a terra come si dice e quindi vediamo altre cose quindi l'Unione ha posto dei vincoli e dei paletti per avere per raggiungere gli scopi perché sa che insomma siamo un po' disastrati soprattutto noi paesi del sud Europa a raggiungere gli scopi però per esempio io sono andata a Malta recentemente edificio ristrutturato grazie ai fondi dell'Unione Europea beni culturali grazie all'Unione Europea cioè Malta praticamente ha avuto tanti di quei fondi che si è ripulita totalmente da noi queste non ci sono e forse questo crea una maggiore disaffezione dei cittadini all'Unione Europea non voglio perdere tempo ti ringrazio Andrea hai fatto una bellissima relazione ora vorrei passare la mano nel microfono a Filippo Scuto che è il professore di diritto costituzionale per la statale e Filippo tu di che cosa ci parli noi abbiamo praticamente questa gestione dei PNR così difficile la solidarietà ma la solidarietà è un principio solo europeo o ce l'abbiamo anche noi nel nostro ordinamento rispondo grazie Paolo ma intanto posso dire voglio dire che sono molto contento di riprendere l'ottava edizione e di farlo in presenza ci siamo fermati due anni con gli incontri a distanza ed è molto bello stare insieme e condividere in presenza quindi sono molto contento di questo quindi preparate le domande beh allora sì diciamo la relazione di Andrea Morrone e quella prima di Paola Bilancia hanno chiaramente in maniera molto 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 precisa puntuale importante delineato quello che è il quadro ora io vorrei soltanto proporvi alcune riflessioni magari anche un po' in ordine sparso che sono legate all'impatto che diciamo il contesto di Next Generation che abbiamo qua analizzato sino adesso può comportare comporta anche sul piano interno anche a livello costituzionale ma poi non è soltanto una questione diciamo vorrei trasparire anche questo da incontro di diritto costituzionale perché l'impatto è un impatto che influisce poi sulla vita sulla vita delle persone sulla vita dei cittadini e sulla vita di tutti i giorni cioè questa solidarietà questo sviluppo della solidarietà a livello europeo rappresentato dal Next Generation in realtà pone a mio modo di vedere per la prima volta c'è un altro ulteriore elemento innovativo anche proprio sul piano costituzionale all'interno per la prima volta c'è un avvicinamento concreto fra quella che è la dimensione della solidarietà a livello europeo partita male partita tardi in enorme ritardo e via dicendo e quella che è la dimensione della solidarietà sul piano costituzionale all'interno mi riferisco al principio solidarista l'articolo 2 della costituzione quei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale che a sua volta diciamo fa della nostra costituzione una costituzione in un certo senso sui generis perché il principio solidarista è strettamente connesso e legato all'eguaglianza sostanziale all'articolo 3 della costituzione è strettamente collegato al principio lavorista all'articolo 4 della costituzione e a loro volta questi principi fondamentali si legano al tema della cosiddetta costituzione economica ai rapporti economici con un orientamento ben preciso che è quello di indirizzare le politiche pubbliche gli interventi legislativi appunto nell'ottica della solidarietà economica e sociale e anche dell'eguaglianza sostanziale questo è un passaggio secondo me di rilievo cioè l'impatto che può avere il next generation e il clima del next generation sul piano costituzionale perché per la prima volta questo è il punto gli stati non sono lasciati soli nel campo del welfare e dei diritti sociali questo non era mai successo nel processo di integrazione europea la tutela dei diritti sociali anche perché i trattati non davano e non danno la competenza sui diritti sociali la tutela dei diritti sociali era lasciata agli stati membri con il problema non da poco che con le politiche di austerity in realtà poi stringendo sui bilanci limitando la possibilità di sviluppare politiche pubbliche quegli stessi stati membri non riuscivano più non erano più in grado di tenere in piedi del sistema di welfare proprio in ragione appunto di un atteggiamento una politica che era quella che era quella dei tagli e che era quella della politica di austerity ecco in questo senso è anche fondamentale il primo tentativo di una condivisione di una condivisione del debito perché appunto diciamo così si utilizza Next Generation per la prima volta utilizza quello che è un classico strumento di intervento statale per favorire la ripresa economica cioè si fa debito sostanzialmente per far fronte a una situazione di crisi per garantire la ripresa economica ma anche per garantire la tenuta dello stato sociale la tenuta del welfare e diciamo è in questo passaggio come è stato sottolineato in precedenza che cambia radicalmente il paradigma cambia radicalmente il paradigma rispetto all'impostazione dell'austerity fra l'altro Next Generation non è solo Next Generation è il cuore di una serie di interventi legati alla situazione pandemica che arricchiscono ulteriormente il quadro perché c'è il sistema il SHORE che è sostanzialmente quello strumento temporaneo che supporta gli stati per l'adozione degli armortizzatori sociali in poche parole SHORE attraverso i fondi europei anche questo fatto con debito comune ha finanziato durante la pandemia a buona parte della nostra cassa integrazione l'Italia è stata il paese che più ha beneficiato del sostegno del sostegno di SHORE e poi ci sono altri due passaggi fondamentali a proposito di questo cambio di paradigma viene nel 2020 anche qui abbastanza sorpresa sospeso il patto di stabilità e crescita la sospensione del patto di stabilità e crescita ha un impatto cruciale sui sistemi sugli ordinamenti statali sui sistemi di welfare statali perché la sospensione del patto di stabilità e crescita consente agli stati membri di intervenire di fare debito per tenere in piedi magari per tenere in piedi il sistema produttivo per tenere le imprese in piedi le imprese per salvare posti di lavoro per l'occupazione senza la sospensione del patto di stabilità decisa per la prima volta questo non sarebbe stato possibile di fatto e lo stesso vale altro passaggio cruciale legato alla pandemia l'altro passaggio cruciale è quello della di fatto sospensione di fatto della disciplina degli aiuti di Stato anche la disciplina tradizionalmente molto rigida la disciplina europea degli aiuti di Stato finalizzata a tutelare al massimo la concorrenza viene sospesa in quella fase per garantire appunto il sostegno alle imprese la tenuta e quindi sostegno alle imprese in quella fase ma è sempre così significa anche sostegno dell'occupazione e quindi tutela del lavoro altro diciamo passaggio cruciale ecco su questo una breve riflessione vorrei farla perché questo armamentario questo insieme di strumenti che diciamo il next generation è l'aspetto più significativo ma ci sono anche questi altri interventi questi strumenti sono tutti hanno tutti natura diciamo provvisoria emergenziale questo è verissimo però adesso i mesi sono passati facciamo una riflessione anche su questo sono passati tre anni fatto 20, 21 e 22 adesso shore dovrebbe terminare con la fine del 2022 quindi poi si pone il tema anche lì di stabilizzare questo meccanismo che sarebbe fondamentale però c'è un tema secondo me che va messo in luce io mi domando e vi domando dopo che per tre anni si è cambiato paradigma in questa direzione si sono utilizzati questi strumenti si sono sospesi gli effetti che più mettevano in difficoltà i paesi già indebitati come il patto di stabilità e crescita possiamo tornare semplicemente alla situazione ex ante pre pandemia cioè possiamo dimenticarci di tutta questa fase di questo di questo triennio e ritornare a quelle regole precedenti mi pare molto difficile al di là del dibattito fra stati più indebitati i paesi frugali che poi il dibattito che diciamo dovrà portare a una conclusione sulla riforma del patto di stabilità e crescita di cui si sta discutendo da mesi faccio notare che in realtà la sospensione del patto di stabilità e crescita sarà valida anche per il prossimo anno quindi avremo un arco temporale che va dall'inizio del 2020 fino al 2024 di fatto in cui ci siamo tra virgolette dimenticati gli effetti del patto di stabilità e crescita questo credo che implica o dovrebbe implicare necessariamente una riforma del patto di stabilità e crescita che tenga conto del fatto che quelle regole fanno parte di un'altra era di un sistema di un meccanismo di un contesto che non c'è più e che credo che difficilmente possa essere riprodotto che difficilmente si possa tornare indietro alle logiche diciamo precedenti rispetto alle logiche precedenti rispetto alla pandemia ecco qui mi pare che ci siano degli aspetti abbastanza significativi c'è nel nesso inscindibile che c'è fra next generation nel PNRR perché per la prima volta c'è una chiara inversione di tendenza poi si può dire quello che si vuole tanto del next generation quanto del PNRR cioè si può dire che sia stato che sia poco puntuale in certi passaggi però c'è un evidente intento di affrontare il tema delle disuguaglianze ecco questo in chiave anche diciamo piuttosto innovativa perché per esempio secondo me giustamente l'Unione Europea immaginava e immagina la transizione digitale la transizione ambientale il tema ambientale come volano per l'economia ma comunque una serie di interventi che poi comportano sostegno e quindi aiuti anche finanziari sul welfare sulla sanità sull'istruzione per l'occupazione una serie di interventi che appunto diciamo così per la prima volta in ambito europeo affrontano decisamente il tema della il tema della delle disuguaglianze le disuguaglianze il tema delle disuguaglianze è diventato è divenuto un tema sempre più grave drammatico dopo il decennio di politiche di austerity quindi quel cambio di paradigma non poteva che essere l'espressione anche di questo mutata di questa mutata attenzione rispetto al tema rispetto al tema delle disuguaglianze è chiaro che poi sarà fondamentale come lo si diceva prima come verrà data con che modalità verrà data attuazione al PNRR next generation ecco qui vorrei dire due cose proprio due parole sul tema della condizionalità che era stato richiamato ecco io diciamo a vari livelli sul piano scientifico la dottrina ma anche diciamo a livello mediatico c'è stata una critica anche abbastanza feroce diciamo così rispetto al principio della condizionalità cioè avere l'idea che appunto questo cambio di paradigma il sostegno orientato alla solidarietà proveniente dall'Europa richiedesse in cambio dei meccanismi di condizionalità ecco secondo me ci sono due elementi da tenere in considerazione il primo è che la condizionalità è diciamo un elemento imprescindibile se vogliamo in qualche modo pensare di strutturare anche nel futuro e di rendere stabile nel tempo il meccanismo del next generation perché credo che tutti diciamo possiamo immaginare che difficilmente i paesi cosiddetti frugali quelli che non hanno i problemi del debito pubblico che hanno i paesi del sud e via dicendo potrebbero accettare di rendere strutturale il meccanismo del next generation della condizione del debito senza la condizionalità cioè senza richiedere in cambio determinate appunto condizioni agli stati che più degli altri beneficiano del sostegno del sostegno europeo e tra questi c'è chiaramente l'Italia ma c'è un altro elemento sul quale secondo me dovremmo approfondire la riflessione nel senso che io credo che la condizionalità del next generation e degli aiuti debba essere vista con favore dai cittadini italiani cioè da noi perché noi veniamo da decenni in cui diciamo così una spesa pubblica poco attenta al tema del debito e a come venivano utilizzate le risorse ha di fatto creato quella situazione che poi ha finito per degenerare in un aumento incontrollato del debito quindi il fatto che quelle misure siano diciamo così monitorate in maniera puntuale quegli aiuti siano monitorati in maniera puntuale che in cambio vengano richieste varie forme di condizionalità mi pare che debba essere letto in un'ottica diciamo anche positiva da parte da parte nostra da parte del nostro paese ecco e poi è chiaro che si tratta di è chiaro che si tratta di una sfida epocale da da diversi da diversi da diversi punti di vista si tratta di una sfida epocale ma secondo me c'è questo passaggio un passaggio veramente cruciale perché pensiamo a come viene delineata l'economia sociale di mercato dai trattati l'articolo 3 al paragrafo 3 del trattato dell'Unione Europea parla della famosa economia sociale di mercato che deve essere fortemente competitiva orientata diciamo così alla tutela della concorrenza e questa è la dimensione che ha ricevuto l'economia sociale di mercato nei decenni cioè c'è stato diciamo così un favore da parte dell'Unione Europea nel processo di integrazione europea per i mercati per la concorrenza che cosa è rimasto indietro? è rimasta indietro la dimensione sociale ma lo stesso terzo paragrafo dell'articolo 3 non si limita a dire quello che ho appena detto perché in realtà dice che questa economia sociale di mercato deve essere anche orientata alla piena occupazione e al progresso sociale quindi c'è quell'altra fetta chiave che poi se ci pensiamo ci riporta allo stato sociale alle tradizioni welfare statali e alle tradizioni costituzionali comuni degli stati membri delle costituzioni del secondo dopo guerra che hanno quel pilastro fondamentale nei diritti sociali e questo in particolare per quanto riguarda la costituzione italiana e la nostra costituzione io e qui diciamo concludo in maniera tale da non perdere troppo tempo e lasciare spazio poi al dopo al dibatto ecco io credo che questo sia il passaggio cruciale è vero la guerra forse ha ulteriormente complicato la questione ma stiamo davanti a un passaggio cruciale perché si è sempre detto che l'integrazione il processo di integrazione europea via via ha riguardato anche l'integrazione politica ecco a mio modo di vedere in questa fase storica andare avanti sull'integrazione politica significa lo dico diciamo a slogan in poche parole significa l'Europa sociale cioè significa quel passaggio verso una maggiore attenzione ai temi dello stato sociale dei diritti sociali che fino adesso è stato diciamo per vari motivi trascurato nel processo di integrazione europea la guerra ci dice ci ha detto un'altra cosa che probabilmente l'integrazione politica in questa fase storica significa due cose l'Europa sociale e la politica estera la difesa comune diciamo così proseguire sulla strada anche della politica estera e della difesa comune ma comunque fermandosi al discorso dell'Europa sociale credo che sia un approdo necessario e credo che i paesi fondatori e in particolare l'Italia debbano essere conscenti i governi italiani di dover giocare un ruolo fondamentale in questo passaggio per spingere verso questo tipo di evoluzione lo dico non soltanto perché siamo un paese con un altissimo debito pubblico ma perché in realtà e finisco con quello da quale ero partito mi pare che sia la nostra stessa costituzione l'impianto della nostra costituzione a richiedere che l'Italia svolga un ruolo di prima linea per passare verso un'Europa sociale verso un'Europa dello Stato sociale dei diritti sociali anche perché la materia ormai di fatto è stata costituzionalizzata a livello europeo la materia diciamo della costituzione economica in senso lato cioè non credo che difficilmente possiamo immaginarci di porre al centro dell'agenda politica il superamento delle disuguaglianze la lotta delle disuguaglianze lo Stato sociale i diritti sociali da soli mi pare che il tema oramai sia un tema europeo cioè senza quella solidarietà europea di cui parlavamo prima complessa con tutte le complessità del caso avere un meccanismo ridare concreta attuazione al principio di solidarista al principio di eguaglianza sostanziale sarebbe una sfida praticamente impossibile le due solidarietà mi pare debbano si legano l'una con l'altra difficilmente recuperiamo i pilastri dello Stato sociale italiano senza la solidarietà europea che abbiamo visto può trasformarsi in qualcosa di assoluto lievo come il next generation poi ci sarebbero tante diciamo domande da farsi sulla forma perché come rendiamo strutturale questo meccanismo la riforma dei trattati un po' mi spaventa l'idea della riforma dei trattati esatto anche perché non dimentichiamoci che tutta questa grande riforma diciamo così l'abbiamo fatta a trattati invariati perché il next generation tutto questo piano è avvenuto a trattati invariati mi fermo mi fermo qua grazie grazie a Filippo Ascuto per questa ricognizione precisa ampia di grande livello e tra l'altro volevo aggiungere a quello che hai detto tu qualcosa che era sfuggito che in effetti nel piano nazionale di io mi sbaglio sempre di riprese resilienza perché mi viene a volte di ricostruzione riprese di terremoti e riprese resilienza sono previste anche delle delle politiche trasversali che riguardano un po' tutti i settori del PNR e cioè le politiche per i giovani le politiche per le donne quindi le varie opportunità e quindi come ridurre il divario di cittadinanza e questo è molto importante cioè è un piano a tutto campo di grande importanza sociale non voglio però far perdere tempo e quindi passerei immediatamente la parola a Giovanni Cavaggion costituzionalista dell'Università di Milano e intanto volevo dire a chi ci segue da remoto che se hanno delle domande da fare visto che non sono qui presenti possono scriverle nella porta sezione che non so qual è ma loro lo sanno chat chat scusa Giovanni grazie mille anche io non posso che unirmi ai ringraziamenti per la professoressa bilancia Filippo scuto per aver organizzato questo ciclo di seminari e accetto sul federalismo che ormai è il nostro partner ormai da anni nell'organizzazione di questi incontri io mi vorrei limitare ad alcune notazioni anche per non rubare eccessivo spazio alle domande e vorrei mettere in evidenza una questione che è che è molto vero quello che ci diceva a mio modo di vedere il professor Morrone prima cioè che le crisi la crisi economica prima e la crisi economico-sanitaria poi sono stato un po' il catalizzatore del tentativo dell'Unione Europea di inverare una dimensione della solidarietà più vicina a quella degli ordinamenti costituzionali nazionali e quindi di implementare una dimensione sociale europea e dobbiamo tenere tenere presente che in realtà le istituzioni dell'Unione Europea o almeno alcune istituzioni dell'Unione Europea in realtà già da anni avevano questo tipo di vocazione cioè già da anni tentavano di per quanto possibile implementare una solidarietà europea e una dimensione sociale europea e lo facevano però con dei limiti strutturali e questi limiti strutturali erano dettati dai trattati vigenti che non consentono come ci hanno già ricordato i relatori precedenti non prevedono competenze in materia sociale dell'Unione Europea o comunque prevedono che l'Unione Europea possa supportare armonizzare le competenze degli stati membri e non prevedono un potere di spesa di bilancio dell'Unione Europea quindi le famose risorse proprie questo è rilevante perché l'Unione Europea al suo interno conosce dei sistemi economici e dei sistemi sociali che sono molto sbilanciati tra di loro giusto per citare due dati ma per per darvi l'idea di cosa stiamo parlando indicatore che è il Global Competitiveness Index del World Economic Forum che valuta il dato aggregato della qualità del sistema sanitario e quella della qualità del sistema dell'istruzione quindi due tipici diritti sociali all'interno dell'Unione Europea nel 2016 2017 noi andavamo dal primo posto della Finlandia in questa classifica al terzo del Belgio all'ottantottesimo della Romania al settantottesimo dell'Ungheria l'Italia stava al ventitresimo posto Social Progress Ingress che classifica i paesi in base alla loro capacità di rispondere a quelle che sono le esigenze dei cittadini con riferimento ai bisogni umani fondamentali andiamo anche qui nel 2017 primo posto della Nimarca secondo della Finlandia 44esimo della Romania 41esimo della Bulgaria e l'Italia al 24esimo posto ora un ordinamento statuale nazionale ha una situazione di questo tipo fa fronte attuando il principio solidarista il principio di eguaglianza sostanziale cioè attraverso la redistribuzione della ricchezza attraverso la perequazione e quindi attraverso il trasferimento dai territori più ricchi ai territori più poveri dai cittadini più ricchi ai cittadini più poveri all'interno dell'Unione Europea questo non è possibile e non era possibile per quelli che erano i limiti strutturali dei trattati che non consentivano all'Unione Europea di fare un'operazione di questo tipo perché gli stati membri sono stati storicamente resti a trasferire competenze all'Unione Europea in questa in questa materia anche in altre materie ma in queste in particolare cosa ha fatto l'Unione Europea l'Unione Europea non è rimasta insensibile a queste problematiche le istituzioni dell'Unione Europea erano consapevoli di queste problematiche al più erano gli stati membri che frenavano ma le istituzioni dell'Unione Europea o almeno alcune istituzioni dell'Unione Europea hanno provato a fare qualcosa per esempio la Commissione e il Parlamento hanno provato a fare leva hanno provato a implementare un pochino di perequazione di solidarietà all'interno del mercato comune facendo leva sull'articolo 114 del Trattato su funzionamento dell'Unione Europea cioè sulla competenza dell'Unione Europea nell'armonizzare le legislazioni dei stati membri per un migliore funzionamento del mercato interno quindi facendo leva su un approccio consumeristico cioè di tutela dei consumatori di protezione del mercato interno per cercare di implementare un minimo di solidarietà un esempio può essere la direttiva 24 del 2011 sull'assistenza sanitaria che ha riconosciuto all'interno del mercato comune europeo con tutta una serie di caveat di regole anche abbastanza stringenti ma la possibilità per i cittadini europei di andare a farsi curare in un altro in un altro Stato membro e questo l'ha fatto l'Unione Europea non disponendo di competenze in materia di tutela dei diritti sociali di perequazione di solidarietà lo ha fatto trattando i cittadini che avevano bisogno del cuore medico come dei consumatori quindi protezione dei consumatori la Corte di Giustizia dell'Unione Europea la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha tentato con tutta una serie di sentenze con la sua giurisprudenza di andare a collegare il godimento di almeno alcuni diritti sociali per i cittadini europei in uno Stato diverso da quello da cui si proviene facendo leva sulla libertà di movimento cioè la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha tentato di dirci attenzione quando un lavoratore all'interno del mercato comune si sposta deve poter godere di una rete di protezione sociale di una protezione dei diritti sociali nello Stato membro in cui va a lavorare perché altrimenti questo creerebbe uno sbilanciamento del mercato comune e pian piano poi la Corte di Giustizia ha provato ad allargare le maglie della nozione di lavoratore le maglie della nozione di cittadino economicamente attivo ricomprendendo tra i cittadini economicamente attivi cioè quelli che avevano diritto a godere dei diritti sociali anche negli altri Stati membri non solo nel loro Stato membro di provenienza ricomprendendovi di lavoratori stagionali lavoratori part time gli individui in cerca di occupazione in alcuni casi addirittura gli studenti e la Corte di Giustizia questo l'ha fatto ponendo un principio di diritto che era quello per cui l'appartenenza al progetto di integrazione europea genera necessariamente una certa minima solidarietà finanziaria dei cittadini dello Stato membro ospitante verso quelli degli altri Stati membri quindi le istituzioni europee erano consapevoli di queste problematiche e non erano insensibili al problema della solidarietà il problema è che cercavano di svuotare il mare con un bicchiere perché chiaramente con competenze così limitate ciò che si poteva fare era a sua volta molto limitato primo e secondo c'era una forte resistenza degli Stati membri e il metodo intergovernativo evidentemente bloccava o tentava di arginare queste iniziative della Commissione tant'è che diversi Stati membri Austria, Germania, Paesi Bassi e Regno Unito nel 2013 per fare un esempio cercavano di arginare questa giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea denunciando il fenomeno dei cosiddetti turisti del welfare cioè dicendo attenzione perché ci sono dei cittadini soprattutto nei paesi dell'est ma non solo dell'est Europa che usano la libertà di movimento che gli riconosce la cittadinanza europea per andare a godere dei livelli di welfare più elevati che ci sono in Germania in Austria nei Paesi Bassi e nel Regno Unito la Commissione Europea ha ribattuto in modo anche abbastanza rigido a questa denuncia però tenete conto che per esempio durante Brexit una delle richieste del Regno Unito era precisamente questa cioè di poter godere di una deroga per quanto riguarda l'accesso dei cittadini e degli altri paesi membri dell'Unione Europea al sistema di welfare del Regno Unito deroga che gli era stata peraltro accordata l'esito del referendum ha fatto sì che non siamo entrati in vigore e quindi le crisi hanno fatto saltare il tappo da un certo punto di vista perché hanno evidenziato quelle che erano le criticità strutturali di questo sistema la crisi economica è stata affrontata con il paradigma dell'austerità e della condizionalità di cui ci parlava il professor Marroni di cui ci parlava Filippo Scuto e ha evidenziato quelli che sono i limiti di un approccio di questo tipo la nuova crisi la crisi pandemica che poi a sua volta ha generato una crisi economica e sociale che conosciamo ha invece in quanto shock simmetrico anche cioè una crisi che ha colpito tutti gli stati membri più o meno nella stessa maniera alcuni più di altri però al contrario di quella del 2008 che aveva colpito soprattutto o prevalentemente solo alcuni paesi cioè quelli con elevato debito pubblico questa era stata simmetrica quindi c'è stata la maggiore volontà disponibilità degli stati membri a mettere in comune delle risorse per farvi fronte e ovviamente si faceva tesoro di quella che era stata il fallimento o il parziale fallimento dell'approccio dell'Unione Europea alla crisi economico-finanziaria del 2008 ecco il punto la domanda che faceva il 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 professor Morrone che poneva anche la professoressa Bilancia Filippo Scuto è quella cioè siamo di fronte a un cambio di passo e quindi che può dare vita a un cambiamento permanente quindi a una un'implementazione di una dimensione della solidarietà e una dimensione sociale europea che è destinata a rimanere oppure siamo di fronte a un caso eccezionale siamo destinati poi a rientrare gradualmente progressivamente senza quasi rendercene conto in quelle che sono invece le dinamiche dell'austerità e della condizionalità ecco ci ricordava la professoressa Bilancia che quando si è trattato di approvare Next Generation EU non c'è stata non è stato facile all'interno del consiglio europeo affermare le ragioni di questo approccio maggiormente solidale la novità rispetto al passato è che questo approccio solidale per la prima volta nella storia dell'Unione Europea è risultato maggioritario all'interno del consiglio europeo pian piano si è affermato fino a convincere tutti gli stati membri certamente certamente quindi abbiamo avuto uno spostamento a mio modo di vedere della solidarietà europea rispetto alla solidarietà così come lo intendiamo nei nostri ordinamenti costituzionali cioè la solidarietà intesa in Unione Europea a parte il fatto che veniva da molti stati membri intesa quasi come in senso civilistico come responsabilità insolido per il mercato comune per la moneta comune quindi richiesta appunto di responsabilità questo 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 cambiamento ha fatto sì che quindi questa cooperazione questa solidarietà all'interno dell'Unione Europea che si fondava prevalentemente sul principio di diritto internazionale pacta servanda quindi cioè sui trattati sull'obbio di rispettare i trattati istitutivi dell'Unione si è avvicinata di più a una solidarietà contratti quasi costituzionali cioè solidarietà così come la intendiamo nel nostro ordinamento costituzionale l'articolo 2 della Costituzione fondata su una comune appartenenza a un'entità quasi costituzionale ora si è parlato infatti no Centro Studi su Federismo ha fatto degli studi su questo di un momento Hamilton del processo costituente europeo ricordando che la disponibilità a mettere in comune il debito per finanziare delle politiche sociali è stato uno dei momenti topici del processo di federalizzazione degli Stati Uniti in America e quindi si è detto questo momento potrebbe essere il momento equivalente nella storia europea cioè il primo passo verso una federazione europea e questo approccio si è trasfuso poi nei PNRR perché ci dice il Consiglio europeo dei PNRR devono mirare appunto a rafforzare la creazione di posti di lavoro la resilienza economica sociale istituzionale dello Stato membro interessato anche attraverso la promozione di politiche per l'infanzia e la gioventù attenuare l'impatto sociale economico della crisi Covid-19 contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e migliorando così la coesione economica sociale e territoriale e la convergenza all'interno dell'Unione questo è un approccio profondamente solidarista perché è un linguaggio che è tipico di quello che è il principio solidarista così come lo intendiamo nella tradizione costituzionale nazionale è diverso da come invece veniva inteso secondo i canoni del metodo intergovernativo ora il problema e lo hanno già evidenziato i relatori che mi hanno preceduto quindi io mi limito solamente a minima notazione è che effettivamente a trattati vigenti la solidarietà può essere solo al massimo forse solidarietà interstatale nel senso che a trattati vigenti manca il famoso demos europeo cioè il popolo europeo e quindi manca la solidarietà orizzontale che lega tra di loro i cittadini europei e i diversi stati membri manca una vera entità statuale europea perché c'è il famoso deficit democratico e quindi manca anche una leale collaborazione tra gli stati membri e tra stati membri istituzioni europee e manca poi una vera cittadinanza politica sociale culturale oltre a quella economica che leghi il demos europeo alle istituzioni dell'unione europea e quindi la solidarietà verticale e quindi ci sono dei limiti strutturali e infatti vediamo che già adesso nel momento di affrontare le conseguenze economiche della crisi in Ucraina ci sono delle difficoltà ci sono degli scricchioli all'interno delle istituzioni dell'unione non di meno non di meno non bisogna a mio modo di vedere minimizzare gli effetti quelli che sono stati gli effetti storici di questo di questo cambio di rotta questo cambio di rotta è di fatto stato epocale perché per la prima volta appunto questo catalizzatore delle crisi ci ha mostrato che quella via cioè debito comune per finanziare politiche distributive di perequazione tra gli stati membri quindi solidarietà e dimensione sociale è possibile è percorribile se c'è la volontà politica degli stati membri di percorrere quella via e quindi certamente per quanto si è trattato di un seme o di un germe di solidarietà che è stato piantato è aperto una strada che ci ha mostrato che se si vuole è possibile certo è che certo è che però questo seme poi va coltivato e va fatto crescere e serve lì la volontà politica veramente degli stati membri di tutti gli stati membri per proseguire in questa direzione e quindi è soltanto con un prosieguo dell'integrazione che sia non solo economica ma anche politica sociale e culturale che l'Unione Europea può raggiungere un'effettiva costituzionalizzazione costituzionalizzazione che non può prescindere dalla solidarietà perché la solidarietà così come l'eguaglianza sostanziale è il pilastro uno dei pilastri su cui si fondano le forme di stato democratico sociale che sono proprio di tutti gli stati membri dell'Unione Europea e quindi certamente si è aperta una via però sta a noi adesso sta ai nostri rappresentanti percorrerla e saperla percorrere correttamente sfruttando l'opportunità che ci è stata data nelle crisi è uscita come un'opportunità che però va perseguita grazie e allora dopo tutte queste belle relazioni ecco vorrei sollecitare le vostre domande le vostre la domanda è essenzialmente per il professor Morzone però in realtà ci riguarda tutti allora da quello che ho capito se ho capito bene il PNR il PNRR rafforza il potere economico dell'Unione Europea tramite quel sistema di condizionalità a fronte di quella che a me sembra che sia una difficoltà politica cioè da un lato abbiamo un potere maggiore economico dall'altro una difficoltà politica derivante da alcuni elementi innanzitutto anticamente erano le pratiche intergovernative che scavalcavano puntualmente tutte le istituzioni europee cioè ci si incontrava a Berlino piuttosto che a Parigi e non si passava dalle istituzioni europee tipo il Parlamento piuttosto che la Commissione la seconda cosa adesso è derivante anche dalle diffidenze sovraniste anche questo indebolisce politicamente se ogni giorno diciamo che l'Europa ci fa male ci ordina ci limita ci fa tutte queste cose noi indeboliamo politicamente e uno degli esempi di queste diffidenze sovraniste io credo che sia la richiesta della Polonia dei debiti di guerra alla Germania cioè perché ora perché adesso sono tanti anni che la Polonia è in Europa e tuttavia adesso ha chiesto e credo che fosse essenzialmente un segnale del tipo state buoni non pensate di dettare legge ecco questo era poi rimane l'ultimo mi scusate rimetto gli occhiali se no non finisco la domanda e e poi c'è la spaccatura dovuta alla guerra che non è una spaccatura da poco non sono semplici inclinature sono approcci completamente diversi alla guerra e anche questo noi dobbiamo considerarlo ora io chiedo da questo tipo di situazione cioè a fronte di una situazione economica dove lo stato di interdipendenza è sempre maggiore ad una crisi politica che la Brexit comunque comunque ha segnalato come ne usciamo grazie beh allora no l'analisi è giusta capito perfettamente quello che volevo 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 dire certamente in Europa ci sono queste due anime c'è l'intergovernabilità no e quindi diciamo così la pretesa degli stati di gestire l'Unione Europea secondo il loro punto di vista che significa poi fino a ieri significava egemonia franco-tedesca e a seguire tutti gli altri oggi non si capisce più chi ha la leadership in Europa perché sono venuti meno i presupposti di una collaborazione stretta da Germania e Francia l'Italia ha tentato di inserirsi in questo dualismo con il governo Draghi la Germania ha assunto una nuova linea politica con i 300 miliardi di finanziamento a debito della situazione interna è chiaramente un atto emulativo ostile si direbbe rispetto alla logica di un'Europa più unita più integrata più solidaristica perché la Germania sta sostanzialmente approfittando della sospensione del patto di stabilità in vista della negoziazione futura per dire io intanto mi indebito poi vediamo sulla base di che cosa ricostruire le nuove regole quindi c'è una spinta forte giustamente lei dice ma tutto questo come può reggere in un contesto appunto sempre più integrato interconnesso dal punto di vista della globalizzazione questa è la vera sfida il punto è che cosa c'è la prospettiva che dovremmo avere singolarmente e poi insieme nel contesto europeo è proprio questo cioè come si può pensare di poter affrontare un mondo globalizzato che è sempre più tale che però ha messo anche in evidenza attenzione i limiti e l'aggressività e quindi i limiti del neoliberismo economico perché voglio dire la globalizzazione è un fatto l'interconnessione economica è un fatto ma è anche un fatto abbastanza eclatante abbastanza evidente che il neoliberismo economico cioè l'idea che il mercato autoregolato possa generare equilibri benessere eccetera eccetera è un mito che ritorna ciclicamente che però ha mostrato il suo volto più più feroce con il finance capitalism ecco che fare è chiaro che qui bisogna capire se la prospettiva sovranista intergovernamentale possa avere uno spazio per governare questo processo non saprei come per la verità oppure se l'Europa possa rappresentare una reale prospettiva io credo che questa seconda strada vada perseguita quindi diciamo così l'Europa è una necessità è una necessità che nella necessità ha dimostrato di poter essere quel baluardo sociale e quindi istituzionale che la società europea può rivendicare per meglio affrontare meglio affrontare rispetto ai sovranismi e gli egoismi nazionali questo mondo così complesso che è il mondo globalizzato in cui il neo liberismo mostra ancora una volta i suoi limiti violenti qualche tempo fa è ritornato sulle pagine della stampa e comunque sui tavoli nei luoghi della riflessione il grande tema del ritorno dello Stato inteso cioè come il ritorno del pubblico di istituzioni capaci di governare l'economia e il mercato la domanda è questa il modello novecentesco che puntava sullo Stato come luogo per poter governare il mercato si dimostra oggi del tutto incapace di realizzare questi fini nel contesto interconnesso della globalizzazione e quindi se ha una qualche attualità questa formula interessante ma anche problematica del ritorno dello Stato sì ma come per esempio Giuliano Amato si poneva questa domanda bisogna secondo me collocarlo nella giusta dimensione che quella europea cioè credo che per poter interferire con i grandi poteri gli Stati Uniti da un lato la Cina e la Russia dall'altro ci vuole l'Unione Europea è impensabile credo che possa competere con questi giganti non l'Italia la Germania questo è un punto secondo me importante volevo solo dare più due informazioni che fare due osservazioni una complemento di quella che diceva molto bene il professor Morrone prima e una complemento di quella che diceva altrettanto bene il professor Scuto una ho avuto l'impressione che nel dibattito italiano non sia chiarissimo il rapporto next generation EU e il bilancio europeo perché bisogna sapere che il bilancio europeo non deve essere in pareggio in base ai trattati cioè l'Unione Europea in quanto tale non si può indebitare entrate e uscite devono essere in pareggio quindi questo è un tipico caso di soluzione creativa voi dovete immaginare c'è un grande silos che è il bilancio europeo in pochi mesi è stato costruito un altro silos a fianco che è next generation EU qual è il tubo che collega i due silos è il fatto che nel bilancio europeo è stato aumentato il livello la percentuale delle risorse proprie che possono essere messe nel bilancio europeo per ripagare quel debito che si farà con next generation EU perché il bilancio europeo non si può indebitare però le risorse per imporsare quel debito ci devono essere e tra l'altro questo consentito alla commissione di presentare una serie di proposte innovative tipo esempio plastic tax questi nascono da questa esigenza diciamo di avere le risorse perché giustamente il professor Morrone ricordavano che next generation EU va dal 2021 al 2026 ma il debito che si crea per finanziare next generation EU va fino al 2058 quindi diciamo ci accompagnerà fino al 2058 a complemento invece di quello che diceva Filippo Scuto giustamente ricordava l'importanza della sospensione del patto di stabilità non l'attivazione della claudula di saldo guardia che è nei trattati ecco la commissione già prima della pandemia aveva avviato la riflessione sulla riforma del patto di stabilità poi è stata bloccata per la pandemia poi è ripartita tra l'altro nel nostro piccolo anche il CSF ha mandato una proposta alla commissione ma questo non è importante quello che è importante è che mi pare il 9 novembre scorso la commissione ha presentato una proposta di riforma del patto di stabilità e questa è la cosa di cui si discuterà nel 2023 su cui il governo italiano dovrà prendere posizione la comunicazione della commissione si trova abbastanza facilmente una lettura interessante però alcuni flash fondamentali uno è una maggiore attenzione al problema del debito torniamo a quello che dicevamo prima questo che ovviamente per l'Italia può essere un problema due una semplificazione dei meccanismi del patto di stabilità forse non tutti sanno che le regole del patto di stabilità attualmente sospese sono un volume di più di 200 pagine cioè esistono pochi esseri umani credo in ogni paese membro che sono in grado di conoscere sono tutti i dettagli dell'attuale patto di stabilità la proposta della commissione è che ci sia un solo valore di riferimento che è il saldo netto della spesa cosa vuol dire il saldo netto della spesa vuol dire che si escludono le spese per interessi e si guarda solo la differenza fra quello che lo Stato incassa e quello che lo Stato spende che per definizione se non è coperto da imposte diventa debito quindi ci sarà un solo valore monitorato terza cosa si sottolinea quella che in inglese si chiama la ownership diciamo in italiano diremo la titolarità dei piani quindi gli Stati avranno maggiore flessibilità nel senso che presenteranno quelli che in inglese si chiamano National Medium Term Fiscal Structural Plan cioè dei piani fiscali strutturali a medio termine su un arco di quattro anni che secondo me creano un ponte fra diciamo il bilancio degli Stati e il PNRR perché questi programmi dovranno includere aggiustamento fiscale riforme e investimento che in Italia si tende a dimenticare che il PNRR è fatto di investimenti e riforme non è fatto solo di investimenti però che tra l'altro se si presentano come dire se non vuole entrare troppo in dettagli però se si presentano delle riforme dei piani di investimenti particolarmente incisivi questi quattro anni possono diventare fino a sette per i paesi però ecco invito insomma sia studenti sia giornalisti a seguire questo perché sarà sicuramente e tra l'altro se non ricordo male Giorgio Meloni nel discorso con cui ha chiesto la fiducia alla Camera ha esplicitamente citato che il governo interverrà ovviamente nel dibattito sul patto di stabilità non entro sul fatto che se ci fosse magari Mario Draghi a Palazzo Chigi sarei più tranquillo però questo fa parte delle valutazioni personali grazie Clare per precisare queste cose che sono estremamente interessanti e utili e molte volte sfuggono ci sono domande richieste di spiegazioni oppure interazioni oppure curiosità oppure contestazioni siamo partiti di qualsiasi dialogo dibattito eccolo vai perfetto come è pensabile rendere il potere anche il potere che quindi per cambiare il bilancio europeo da un bilancio di tempo stesso a dei punti di entrate del dato in campi di di cambiare la proposta città è lavorata l'Europa io non so rispondere non so sperando di capire di attuali ma diciamo un principio è quello dell'unicità del soggetto è chiaro che sul singolo cittadino non si possono caricare ulteriori imposte europee uno dei principi cardine del federalismo è la ripartizione di poteri responsabilità e risorse fra i diversi livelli di governo quindi bisogna individuare tipi di imposte sovranazionali per esempio una delle imposte riguarda i biglietti aerei ad esempio cioè questo comunque ha un impatto non sovrattarsi sui biglietti ha un impatto sull'inquinamento la plastic tax è una dimensione anche questa come dire legata poi a altri valori come la transizione ecologica cioè si tratta comunque di individuare delle imposte che siano come dire che non si aggiungano altra cosa ovviamente che ci può essere una ripartizione già oggi quando noi paghiamo l'iva una piccola quota di quell'iva va al bilancio europeo quindi però ecco non è che non è che si aggiungono imposte questo è un principio fondamentale perché appunto il soggetto deve essere uno solo ricordo anche che molto sospinta anche dell'Unione Europea e poi anche grazie all'arrivo di Biden insomma negli Stati Uniti si è finalmente cominciato a discutere anche di quella che si chiama global minimum tax cioè una tassa minima sui profitti delle multinazionali che notoriamente per esempio le multinazionali digitali pagano imposte irrisorie insomma questa anche potrebbe poi in parte confluire nel bilancio europeo altra imposta di cui si era discusso era la web tax appunto magari appunto questa verrà assorbita adesso dalla global minimum tax però il punto è importante quello che dice lei cioè non può essere un'imposta che semplicemente si aggiunge ecco anche perché non aumenterebbe molto simpatica l'Unione Europea e quindi va studiato in questo senso ogni livello deve avere la responsabilità delle scelte ma anche diciamo delle entrate con quelle finanze soltanto per aggiungere questo cioè partiamo dal presupposto che giuridicamente l'Unione Europea non ha un potere fiscale quindi diciamo così quindi questo è un grosso un grosso limite l'IVA appunto è europeizzata dal punto di vista della disciplina ma dal punto di vista del gettito è soltanto in minima parte va al bilancio quindi eventualmente qui bisognava capire se si può allargare la forbice dell'aliquota che va devoluta anziché trattenuta dagli stati ad esempio ma c'è evidente che se tu devi allargare il bilancio europeo non puoi neanche contare soltanto su nuovi cespiti rispetto a quelli esistenti da colpire cioè devi individuare delle fonti di ricchezza nuove o forse addirittura modificare il sistema tributario che è incentrato sulla leva fiscale degli stati ma questo richiede un importante intervento normativo evidentemente a livello europeo gli Stati Uniti d'America dimostrano che appunto l'assenza del potere fiscale in capo alla federazione perché ce l'avevano gli stati membri è stato aggirato con la competenza interstatale da regolare i rapporti tra gli stati che era della federazione e per questa via appunto si è ingrossato il bilancio federale e poi ovviamente successivamente questo ha consentito appunto di ampliare le competenze però si può raggiungere certo c'è il problema effettivamente del lato come dicevo prima del lato fiscale accanto al lato del debito del finanziamento del bilancio del bilancio europeo soprattutto se si vogliono perché non si può costruire un'integrazione esclusivamente sul debito appunto proprio perché già a regole vigenti questo non è già una forzatura no? abbastanza evidente devi trovare degli strumenti devi trovare gli strumenti e qui però bisogna innovare bisogna certamente innovare sul piano normativo sostanzialmente e formalmente anche innovare sulle competenze perché le competenze che l'Europa si è assunto si è assunta in modo surrettizio in via emergenziale per la pandemia sociale il sanitario e tutto il resto allora bisogna fare anche una diversa distribuzione di competenze tra Stati e Europa che necessariamente comporta una ripartizione anche finanziaria a seconda della responsabilità anche la finanza o addirittura delle tassazioni di scopo in alcuni settori ovviamente essendo il primo Stato federale gli Stati Uniti sono il paradigma diciamo su cui si studiano queste cose giustamente quello che diceva professor Morrone però una cosa che spesso non si sa è che all'inizio del Novecento il bilancio federale americano era il 3% del PIL dicevamo prima nel bilancio europeo è minuscolo è poco più dell'1% e la crisi diciamo del 29 che porta al New Deal e poi la seconda guerra mondiale che fa diciamo crescere il bilancio federale americano oggi è il 25 26 27% del PIL giustamente professor Morrone prima citava la no bailout clause la clausola di di no bailout ma di non come dire negli altri Stati nell'Unione Europea si può assumere la responsabilità del debito di uno Stato ma la maggior parte degli Stati Uniti degli Stati membri degli Stati Uniti ha questa clausola di fatto cioè non si sa che ad esempio la California che probabilmente da sola è l'ottava non economia mondiale è fallita più volte il problema è che ha la rete del governo federale che la protegge il problema europeo è appunto che non c'è o non c'era forse questa rete federale questa rete che noi infatti abbiamo rischiato per un'economia sostanzialmente minuscola come quella greca una crisi dell'intera eurozona perché mancava questa rete di protezione e infatti gli strumenti che sono stati costruiti hanno di fatto in pochi anni costruito questa rete non stanno questo dure lacrime per la grecia appunto sì ci sono altre domande cioè altre osservazioni altre curiosità allora possiamo chiudere questo incontro di studio vi ringrazio per aver partecipato vi ricordo che il 2 dicembre ci sarà immigrazione in Europa vecchie e nuove sfide dell'accoglienza di cui il professor Scuto è uno dei massimi esperti italiani è accompagnato da altri colleghi e quindi vi prego di esserci e anche perché in questo momento il problema immigrazione mi sembra molto molto attuale e vivace grazie e grazie ai nostri relatori